Grazie mille. Grazie femmine ai blocchi in un tre Alessia Lizziero, in quattro Francesca Pagotto, in cinque Elena Buttignoli, in sei Anna Voltan. Noi siamo in vasca con la prima serie dei cento rana esordienti a maschi. Miglior tempo di iscrizione Andrea Cescutti in quarta corsia. Miglior passaggio di Marco Menta dalla prima corsia 37 e 08. Alessandro Sperotto in seconda posizione 37 e 16. E dunque Sperotto in tre, Cescutti in quattro, Vianello in cinque, testa a testa fra questi atleti per le medaglie in palio. Attenzione però anche a Marco Menta in prima corsia, portacolori della Rari Nantes e Marossica. Marco Menta dalla corsia numero uno, uno diciassette e ottantaquattro. Sperotto in seconda posizione, uno diciotto e settantanove. E poi Andrea Cescutti, uno diciannove e dieci.